Non si può dire che la Giunta Zaia non abbia lavorato sul discorso della sanità, ma ci sono ancora tante cose da fare, perché è pur vero che si può andare a fare le analisi alla sera, ma allungando gli orari di apertura degli ospedali, senza metterci dentro le persone che lavorano, non è che diminuiamo le liste d'attesa, diamo un servizio in più ai cittadini, questo sicuramente è stato apprezzato, ma le liste d'attesa continuano ad esistere. In Veneto si può e si deve fare meglio nella sanità come in molti altri campi. Area popolare Veneto-Contosi si presenta come una delle nuove proposte politiche a sostegno della candidatura di Flavio Tosi alla presidenza della regione e anche come la nuova casa dei moderati che non si riconoscono più nel vecchio centrodestra. Ormai i partiti tradizionali, quelli a cui tutti noi abbiamo fatto riferimento, io stessa ho militato in Forza Italia per 18 anni, si sono troppo appiattiti su posizioni a volte addirittura xenofobe. Ecco io per il mio Veneto spero che ci sia proprio da questa campagna elettorale che cresca un nuovo germe per radunare tutti i moderati, per radunare le persone che comunque credono nei valori liberali, che credono nei valori democratici e che possano fare effettivamente la differenza fra chi parla la testa della gente e chi parla la pancia della gente.